Mariana Ragazzo, arconudo senior femminile degli arcieri del Tricoglia, ha conquistato l'argento alla gara interregionale tiro di campagna 12 più 12 organizzata a Città del Pieve a Perugia l'11 aprile 2021. La competizione si è tenuta in un bosco scoccando complessivamente 72 fricce su 24 bersagli, 12 poste a distanze sconosciute e 12 a distanze conosciute. Un successo che arriva dopo la medaglia d'oro conquistata lo scorso marzo a Saracinesco a Roma. Allo stato attuale detiene sia il titolo di vice campionessa italiana 3D che di campionessa regionale indoor 18 metri. L'attreta del ASD Arcieri del Tricoglia è stata riconfermata nel gruppo della Nazionale Italiana di tiro con l'arco per la specialità 3D. Sono solo tre le arciere arconudo che effettueranno radunni con gli allenatori della Nazione Italiana nell'auspicio di poter indossare la maglia azzurra al prossimo campionato europeo 3D 2021 che si terrà in Slovenia. FIT che sarà dunque impegnata su più fronti dal 24 agosto e al 5 settembre scattano per il tiro con l'arco le Paralimpiadi di Togo con l'Italia che è già in tasca a sette carte. Praticamente in contemporanea dal 30 agosto al 3 settembre ci dà spazio anche per la Nazionale TD impegnata nei campionati europei di Maribor in Slovenia.